Mi chiamo Jacopo, ho conosciuto Emilio alle scuole medie e da sempre si è dimostrato una persona ricca di interessi, ricca di spunti, ricca di storie proprio per la vita che ha condotto, suddiviso tra l'Italia, la Colombia e la Thailandia. Mi chiamo Emilio e sono nato in Colombia per la precisione a Santa Fe de Bogotà il 2 marzo del 1987 e per una serie di fortunati eventi sono cresciuto tra la Colombia, l'Italia e la Thailandia. Intorno agli anni 90 eravamo stabiliti in Colombia con mio padre, mia madre, mia madre colombiana, mio padre italiano, Umbro e Ternano per essere ancora più precisi. Appena arrivato in Italia non era facile essere colombiano. Il colombiano era visto sempre come una persona povera, come una persona proveniente da un terzo mondo, buio, cupo, fatto di produzioni di sostanze stupefacenti. La voglia di tornare in Colombia c'è sempre. La necessità di tornare, di sentire l'odore che c'è quando esci dall'aeroporto di Bogotà. L'odore che c'è la sera a casa quando Zia finalmente c'è il raccolto del mais e prepara tutti i piatti tipici della nostra regione. Spero in futuro di poter tornare molto più spesso in Colombia, molto più di quello che faccio adesso e di poter creare un legame molto forte con loro. Mi sono fermato stabilmente a Terni intorno ai 15-16 anni, un po' anche perché credevo fosse il momento di cercare una radice o comunque un'appartenenza più forte rispetto a quella che in passato o nelle altre nazioni o negli altri luoghi ero stato a contatto. Quindi cercando di avvicinarmi un po' di più, comprendere meglio. La passeggiata sicuramente è stato il primo luogo verde vicino casa che mi ha messo a disposizione uno spazio libero dove poter giocare, che sin da piccolo era il punto di ritrovo in cui il mio caro zio mi portava a vedere le papere, a fare un giro sul trenino, a giocare con gli altri bambini. Ad oggi il parco della passeggiata è stato ed è un punto verde di riferimento da cui Esalis e Rinascere dal Verde, tutte quelle che sono le attività che poi hanno trasformato la mia vita, prendono spunto. Esalis è una start-up innovativa che si occupa di attività agricole. Da qui la sfida più grande con la canapa, nella quale la mia nonna italiana lavorava e filava la canapa quasi cento anni fa, Esalis nasce intorno a questo principio, nell'idea di dare una nuova speranza a una città con un retaggio industriale estremamente importante, avvicinarla a quella che può essere una vera rivoluzione industriale vegetale. Ti ricordi poi l'ultimo mese di scuola media in cui... L'ultimo che abbiamo fatto da amici. L'ultimo che abbiamo fatto da amici, qualche anno fa, in cui il buon Jacopo mi ruppe il naso con un sinistro mirato dritto. Un sinistro mirato ma a tradimento. Mirato ma a tradimento. Oggi va detto, va ammesso da parte mia e fuori a traditora. Ma ecco, forse è stato un mettere in pausa, non è stato uno stop. Sì, è vero, è stato un pugno pausa. Un pugno pausa, un pugno pausa. Un pugno pausa, un pugno pausa, non è stato un pugno pausa, non è stato un pugno pausa.